A questo nostro villaggio, a queste nostre mura, al nostro porto, al nostro faro, a tutto il popolo Livornese. Livornese, questo villaggio dopo aver mutato tante signorie, essere stato venduto, distrutto, ricostruito, è ora divenuto emporio di commercio e porto di grande importanza, ma il pericolo di una nuova devastazione soccombe. I bisani vogliono riprendersi Livorno e per questo hanno chiesto aiuto a genovesi, a lucchesi, a senesi, veneziani, alla signoria degli sforza e all'impero alemanno. L'armata fiorentina da sola dovrà difendere questo contato dall'invasore, esso sta viaggiando contro di noi dal mare e da terra. Popolo di Livorno, vi chiediamo di combattere con noi contro la prepotenza di questi invasori che solo per convenienza vogliono togliervi la libertà di popolo indipendente. Volete cedere la vostra Livorno agli stranieri o volete unirvi a noi? Siamo pori! Vimele di tua menta ed the milian! Sono perito di Monte Nero, mio signore. Vivillaro, il popolo почondese è con te. Combatteremo fino alla morte per l'alimentata di Stupido. Siamo pochi ma disposti alla guerra, donne e uomini. Se siamo un pugno di difensori, Dio ci aiuterà. noi siamo il pugno chiuso di Dio 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 lo dico